I went up again, to the gloomy charm of post-apocalyptic Moscow. I was warned in Hall's station about a new school. Ui, grazie. Hogy ők lőnek rám. Szerintem ők haverok. Hogy ők lők. 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 no 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 Ok Sì Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. comePS a a i no 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 ok no ok 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 no ok Sì ... 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 e non ho dovuto che mi sono e non voglio che non voglio che che 10 minuti e non non ho dovuto che 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 la la e l l che 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 Sì A 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 no ma non ciò c'è non c'è un'ora che vanno qui Eccolo qui, un'idà alatt. Qui kell mennì? Ahah. Sì. Sì, 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 sì. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Páncért viselünk, meg... Mit tudom én mit? Oh ne, a harc elős közepén kelljen. Vissza. Szerintem, fogok ahol nem tudjuk, hogy hogy merre kell menni? Valami erre biztonsan. Azt itt minden futban. Aztán lévő bennem. Csak itt. Qui? 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 Ah, l'égegge. Maxon van. Legalábbis én úgy érzem, hogy maxra nyomtam. Még érzem! Még nézz. Még. 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 Sì, 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 sì. No, no, no. Nem tudok itt visszamenni. Nem tudok itt visszamenni. Nem tudok itt visszamenni. Oké. Nem tudok itt visszamenni. Bezeg, ezért. Vele előtt dobtam a két. Mindig a gét nyomom meg, amikor nem kell. Ne? 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 B ocurassa. Hájáányan. Valaki, komijen áll loss! Uuu+,... ... ... Egyek haráldá. o se io gli per quiero qui ne sono ma i 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 We want help, we want help. We want peace, we want peace. What is he doing? Wicked phenomenon, yes. But, you know, it's not any more evil than, say, fire. It all depends on your point of view. Try to get a better understanding of things before you make your judgment. Let's move out now. It's not safe here. It's hard to describe my feelings at that moment. Hey, you at the rail car! Stop the engine! Do not move! Name yourselves! Oh, we're Nazis coming to take your station. Old man, is that you? You're lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? He's from the Northern Frontier. I'm escorting him from the Black Station. All right, come on through! Good to see you! T-Kintén-t-t-ek. It van a gerik, a spartai? Parta. This is a Sparta. Ez idén of the way I could do, ezek nem picit. Hogyha ezt egyszer velcsukkod, akkor az nem nyílik ki. Sì 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 Alla pote Alla pote Alla pote Alla pote Alla pote Amúgy nem tudom mennyi az atóm felezési ideje Például aki a Csernobiaban már élnek ebben Fel vagyok You're welcome All right, all right, get changed There's the clothes You can leave your gear, it will be safe here You'll get it back sparkling clean You go ahead and take some rest, Artyom, and I'll go find Miller I hope he's not out on a mission By the way, don't forget to scrub yourself down in the lobby, Omen I won't, I won't You're pain in the ass Would you rather have two-headed kids? Come, move, try and buy Hi Hello Special offers, discounts Best guns from the Forge Masters Hey I wanna go pee Helyes, helyes, helyes Te vas, Reptile, mi újság? Pont most említettelek az előbb Helyes 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 A Star Trek Enterprise Sorozatot Nem, 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 hát Csak annyi, hogy Olvastam a híreket Helyes 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 Női Grazie a te che i polis, è stato un bravo cosa che ti chiedi. Si chiedi un esercizio, quando ti chiedi, ti chiedi la situazione. Tutti 200 metri lezàrtati il territorio. Tutti il territorio, tuttate il territorio. Il territorio il territorio. A prestigio della scuola. Allora, mi sono stati. Quindi, prima cosa mi sono stato di più? Mi hanno fatto un pozzo. Mi hai fatto? 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 Non è un pozzo. È un pozzo. Non puoi andare? Mi hai fatto? Mi hai fatto? Vi faccio un pozzo. e ho un po' dirrata e ho avuto conoscenza c'è da 8 orella e che adesso mi sono che il comforo io l'arстро ma la polis non è il consapevole Non c'è ancora più persone che saranno e combattere la scuola a scuola. Ok, 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 ok. Ecco qua bene. Il ranger hanno trovato molte mescoli basi per la città. Cosa potrebbe essere attivati e farciare una scuola a scuola a scuola. Il problema è che i mescoli sono stati da scuola, D6. Ma non sappiamo che quello è. Ma se fosse una scuola. Ma non sappiamo che la scuola. Ma non sappiamo che la scuola. Ma non sappiamo che la scuola. È un grande scuola per la scuola. È un pozzo, ma è una scuola per la scuola. È un pozzo per la scuola per la scuola. Dobbiamo andare là. Ok, ora non sappiamo, per evitare la tensione. Tu sei qui qui. È già lo scuola per la scuola. Quando hai scuola per la scuola per la scuola per la scuola, io sarò per la scuola per la scuola. Ok? Hey, Artyom! Sperjate! Ah, una cosa più. When we go back, we'll head straight for Spartabass. My range is one. A polis az univerzum központja. Éppen hogy leszették a föld réteget, de azért arra képes az emberiség. Tehát, hogy... A Pinarja előre az indelében előtt. A panekadás előtt. A tanács nem sem! Ah? Ó. Éppen. ... Ok, siamo 10 secondi. Sì, 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 sì. Ecco che c'è l'unico. Ah? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì, sì. Sì! 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 Főszer kellene majd találnom. Ja. Let's go, guys! Sì! 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 Ittalában a hétfő is a szerdnek a masszív rajinakon. Sì! ... ... Vittorio stasera is left, try to find the way to open it. And there's a moment. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie. Törvára nincs itt semmi. Non c'è nulla. Na jön nézi azt a falat. Nincsen semmi. Halljunk, hogy bebuggolt megint a játék. Jó, jó, jó. Ilyen half life-os. Ilyen half life-os. Ilyen half life-os. Megpróbálom megint. A többi. A többi. Mert. 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 come un po' come un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.